Il 30 e il 31 maggio prosegue il settimo ciclo della giornata della salute mentale. Le persone affette da disturbi psichiatrici sono molto vulnerabili perché spesso non hanno accesso al mondo del lavoro, al mondo dell'istruzione. Infatti i tre temi fondamentali di queste due giornate del 30 e 31 sono lo stigma, prima di tutto, i rapporti tra salute mentale e mass media e il patto per la salute mentale che è un patto cittadino che vogliamo cercare di realizzare anche alla Spezia perché esiste già a Genova e che cercheremo di realizzare anche alla Spezia proprio per cercare di unire, fare rete, unire tutte le forze che sono presenti in campo a livello cittadino, quindi politiche sociali, economiche, le associazioni del volontariato e le istituzioni chiaramente sociali e sanitarie per favorire proprio l'inclusione dei pazienti affetti da disturbo mentale. L'Italia è sempre stata un paese all'avanguardia in questo campo dalla legge Basaglia al superamento dei manicomi, però ancora molto c'è da fare. Consideriamo che una persona su quattro sperimenta nel corso della propria vita una malattia mentale, per cui come dire che tutti noi abbiamo a che fare con la sofferenza psichica e nella famiglia, nel lavoro, nella scuola e così via. E anzi ci può essere qualcuno che ne sta soffrendo in questo momento o che ne soffrirà in futuro. Purtroppo però spesso si ha paura di parlarne, le persone a volte tendono a nascondere questo problema quasi a vergognarsene. E' questo lo stigma ed è questo che noi dobbiamo assolutamente combattere. E si combatte proprio tramite la comunicazione, cercando di far conoscere chi è la persona con disturbo mentale che poi è una persona che sta esperendo un problema che è di tutti, perché la sofferenza psichica coglie chiunque in certi momenti della vita. Per cui la cosa importante è proprio la comunicazione e cercare di conoscere da vicino, proprio anche tramite iniziative di questo tipo, questo problema. Diciamo.